Allora, mettiamola così, uno passa tutta la giornata a monitorare il tempo, a fare alcuni video, a metterli in onda, a dire bella neve la situazione è questa, finisce la giornata dove è tutto tranquillo, non è successo quasi niente, dopodiché si sveglia la mattina e questo è lo spettacolo e quindi è stato perso quello che comunemente si chiama lo scoop della nevicata, perché è nevicato e ora non nevica più, bene, stavanti mattina all'ora al sesto, qui siamo a colonnata, fa davvero molto freddo, le strade sono solcate però sono ghiacciate e quindi occorre davvero prestare molta attenzione come già dicevamo ieri mattina.